ANSA, Milano, 12-8, se siamo cooperativi e si ragiona su un progetto condiviso, noi non mettiamo veti. Segnalo che quello che si sta producendo da quel lato non ha mai lavorato in quella direzione. Lo ha detto il vice segretario del PD, Maurizio Martina, a chi gli aveva chiesto, se con la nuova legge elettorale ci possa essere un'alleanza coi fuoriusciti di MDP.